Il museo di San Carlo Borromeo, delle Camere di San Carlo, è un museo che è stato inaugurato nel 2010, prima c'era una stanza sola, adesso è stato ampliato e la caratteristica è che adesso vuole essere un insieme di oggetti che fanno parte della tradizione, del culto che lega Corbetta al suo santuario, l'elemento più importante è sicuramente la Camera di San Carlo che è la stanza da letto che San Carlo Borromeo utilizzò durante la sua permanenza a Corbetta in tre occasioni, nel 1570, 1776 e 1778. L'opera più importante che abbiamo qui esposta è il quadro del Procaccini, è un'opera particolare perché Procaccini è uno dei maggiori maestri del primo barocco lombardo e quindi questa è un'opera storiamente importante che ha condizionato tra l'altro la sistemazione dell'attuale, dell'attuale un museo ogni domenica. Grazie. 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 Grazie.